Parliamo di sport e parliamo di motori qui su ideawebtv.it, anche perché abbiamo un ospite davvero particolare in collegamento telefonico con noi, stiamo parlando di Jimmy Ghione che non è solo il celebre inviato di Striscia alla Notizia ma che si cimenta e anche con grande successo con gli sport dei motori, infatti recentemente è diventato campione italiano nella Green Scout Cup, un esempio virtuoso di come si possa abbinare lo sport dei motori con quello che è un concetto ambientale, concetto ambientale di cui è testimonial l'azienda BRC di Cherasco di Mariano Costamagna. E noi salutiamo Jimmy Ghione che è in collegamento telefonico con noi. Buonasera Jimmy. Eccoci, buonasera, sono in giro per l'Italia, per cui sono per strada, spero che si senta bene il tutto. Decisamente, e ridubbiamente il risultato sportivo è notevole perché hai conquistato un alloro sicuramente importante e lo è importante a maggior ragione, come dicevamo poc'anzi, per il fatto che è legato a una politica ambientale di cui si fa interprete anche l'azienda BRC. Assolutamente, io sono tanto contento di essere campione italiano perché come ho detto nelle interviste precedenti è una cosa un po' anomala, di solito la televisione acquisisce dei campioni e li porta appunto in televisione, invece c'è la prima volta nella storia che uno dalla televisione passi a delegare a un campionato italiano e vada a vincerla. Poi la cosa straordinaria secondo me è di averlo fatto con una macchina a gas che è molto vicina a questa filosofia, è molto vicina al mio pensiero, è al pensiero di striscia, cioè quello di inquinare poco e di comunque studiare un qualche cosa che sia alternativo alla benzina. Per cui energia alternativa, risparmio, poco inquinamento, campione italiano, insomma è una cosa per me bellissima, straordinaria. Decisamente Jimmy, in conclusione l'anno prossimo naturalmente si è chiamato a riconfermare questo titolo, vincere è bello ma riconfermarsi è sempre più difficile. Assolutamente sì, anche se devo dire la verità, per me già essere campione italiano quest'anno è meravigliosa come cosa. Chiaro è che poi se un altro anno vado a riconfermare il titolo vorrei dire che non è stato un caso ma vado a mettere un sigillo laddove quest'anno ho primeggiato e poi si vedrà. Però intanto se non riuscissi un altro anno mi tengo comunque stretto il titolo campione italiano 2012-2013, anzi vabbè sì 2012, perché il 2013 si vedrà, però strafelice. E noi ringraziamo Jimmy Ghione, campione di automobilismo nel rispetto dell'ambiente, quest'anno primatista e vincitore della Green Scout Cup.